Ciao a tutti, sono Filippo Nogarin, Sindaco 5 Stelle della città di Livorno, con l'occasione saluto tutti gli amici del blog di Beppe Grillo. Sono oggi qui a Bruxelles per cercare in qualche modo di aumentare quelli che sono i collegamenti istituzionali con i nostri parlamentari e tutti i collaboratori che lavorano qua a Bruxelles. La finalità ovviamente è quella di cercare di comprendere meglio quali sono le politiche comunitarie e soprattutto trovare la strada per cercare in qualche modo di finanziare alcuni progetti che ci permetteranno di portare avanti quelle che sono le politiche con le quali abbiamo scritto il programma 5 Stelle della città di Livorno nella fattispecie, ma non solo, in quello che speriamo che sia un lavoro di coordinazione con gli altri sindaci, un lavoro che ovviamente ci vede presenti anche qui a Bruxelles per trovare delle politiche le più ampie e condivise possibili.